Il nostro progetto con Saipem è stato quello di realizzare una soluzione di ricerca documentale multilingua all'interno dell'imponente knowledge base dell'azienda che è composta da circa un milione di documenti. La vera innovazione sta nel fatto che non parliamo di una classica ricerca documentale ma di una soluzione che sfrutta i più moderni modelli di NLP, ai quali ad esempio permettono di comprendere l'intento della ricerca degli utenti e il significato contestuale dei temi utilizzati al fine di generare i risultati più rilevanti. Allo stesso tempo permettono di estrarre documenti e informazioni di insight in modo automatizzato e intelligente permettendo a Saipem di fare emergere informazioni che prima erano nascoste dentro il singolo documento, di migliorare la diffusione della conoscenza e di accrescere la consapevolezza dell'immenso patrimonio informativo presente in azienda. La sfida principale che abbiamo affrontato in questo progetto è sicuramente quella di rendere sfruttabile e portare valore comune l'immenso patrimonio documentale di Saipem fatto da centinaia di migliaia di documenti provenienti da fonti teleogenee e di molteplici formati ma soprattutto con tipologie molto differenti tra loro. Parliamo di procedure operative così come di manuali tecnici. La sfida nella sfida è stato fare tutto questo interpretando il contenuto dei documenti e non solo cercando le parole chiave in essi contenuti. Quello che differenzia la nostra soluzione dalle altre è quello di essere altamente scalabile e flessibile e seguire le necessità aziendali che cambiano nel tempo non solo dal punto di vista infrastrutturale ma anche dal punto di vista tecnologico e dei modelli di NLP applicati che sono in costante aggiornamento e ottimizzati in un'ottica di continuous improving.